Secondo me sì, la terza dose va fatta a tutti, anche perché c'è una recente esperienza fatta in Israele. Gli israeliani sono stati i primi a vaccinare tutti con due dosi, loro hanno utilizzato solamente il vaccino Pfizer mRNA e sono stati i primi a vaccinare di terza dose tutti. E cosa hanno notato? Hanno notato che contro la variante Delta, che è quella presente in Israele, ma è presente pure da noi in tutto il mondo, quella che oltre il 90% circola in tutto il mondo, contro questa variante Delta la resistenza nei confronti di questa variante data da questo tipo di vaccino, con la terza dose dal 71-73% raggiunge il 91-92%. Quindi significa che questa benedetta terza dose, passati i 6, 8, 9, 10 mesi dal secondo inoculo, va fatto a tutti. E solamente in questa maniera riusciremo ad essere più tranquilli, a passare un'invernata tranquilla, nonostante la presenza e la circolazione di una variante, appunto quella Delta ex indiana, che è molto infettante. Quindi ci salverà solamente la vaccinazione. In effetti stiamo vedendo che i soggetti non vaccinati sono quelli che ammalano e poi vanno purtroppo in reanimazione 8 decessi su 10 e a carico di soggetti che non hanno avuto nemmeno una dose o una sola. 2 su 10 invece purtroppo sono soggetti che invece sono debilitati per altre patologie nonostante abbiano fatto anche le due dosi di vaccino.